Siamo all'interno della sede del municipale di Ponticelli. Questa sede, dal 3 in marzo, è chiusa per le attività di cambi di residenza, certificati stati di famiglia, modelli ISEE, le assistenti sociali spostate a luglio del 2013. È una situazione creatasi e stratificatasi nell'ultimo periodo. Parte dal dicembre del 2011 i primi problemi a questa struttura e da allora ad oggi mai sono stati affrontati. Devo dire che un territorio come quello di Ponticelli, formato e abitato da 56.000 abitanti, non può non avere un servizio primario di questa importanza. La possibilità che questa sede municipale possa funzionare soltanto per gli atti notorio e le carte d'identità non sta bene. Non sta bene ai cittadini, non sta bene a me come cittadino e come rappresentante istituzionale. Non può stare bene perché non è immaginabile che si debba chiedere ai cittadini di questo territorio, già deprivati per tante altre cose, di fare 10 chilometri per il prossimo municipio per poter chiedere una carta d'identità a uno stato di famiglia. Basta sostare 10 minuti fuori a questa sede per rendersi conto della grave disattenzione. Devo dire che non basta l'impegno, entro giugno troveremo i fondi per poter fare i lavori. Sappiamo bene che giugno è una data illusoria. È evidente che a giugno si potranno, io mi auguro che il sindaco di Napoli trovi i fondi per fare i lavori, ma dopo aver trovato i fondi deve esperire una gara d'appalto, i soliti ricorsi. Quindi iniziamo a immaginare che entro un anno, un anno e mezzo, non si proceda a nulla. Tant'è che a luglio del 2013 c'era stata già una chiusura, quindi erano tutti informati. Nessuno può dire di non sapere qual era la situazione del municipio di Ponticelli. A luglio di quest'anno, del 2013, il sindaco era stato informato perché la sede era stata chiusa. Ha fatto il suo intervento, è riuscito a riparare le piccole cose, è bastato l'intervento dell'ASD per chiarire che la sede non poteva essere utilizzata. Quindi rimandare ancora, chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini, che tra l'altro siamo stati una decina di minuti fuori alla sede municipale e ci siamo resi conto che anche la sede municipale adesso di San Giovanni inizia ad andare in difficoltà. Perché naturalmente immaginerete 56.000 abitanti, immagino che un migliaio di certificati al giorno si facciano, si spostano dall'altra parte e trovano la sede municipale anche in quel caso che non funziona. Tutto si può fare, chi amministra può fare tutto, ma deve iniziare alle cose più semplici. Non è immaginabile assolutamente che un diritto sacrosanto a poter avere un documento debba essere legato al caso, alla possibilità che una sede è chiusa o aperta, oltre a mortificare i tanti lavoratori che da tempo prestano un servizio, prestano una sede storica come quella di Ponticelli. Senza indugi, sindaco. È un invito, non è una richiesta particolare. Noi non chiediamo la Coppa America, né chiediamo la Coppa Davis a Ponticelli. Gli chiediamo una cosa molto semplice, che i cittadini possano avere il diritto sacrosanto di poter avere un certificato.